via degli archi, e quanto è bello questo paese, veramente bello, questo è storico, ci devo tornare, veramente devo tornarci, parecchie cose, parecchie case stanno restaurando, lì col forno vecchio, lì quello chiuso, via del macello, via degli orti, continuo a salire, via scoscesa, questo che è, ho preso qui, l'ho rincorso, bello, giù, guarda là, magnifico,